L'amministrazione comunale e la fondazione Arezzo Intur non è responsabile, tanto meno nella gestione degli impianti, anzi siamo parte l'ESA. Risponde così l'assessore alle attività economiche del comune di Arezzo e presidente di Arezzo Intur Simone Chierici sulla polemica sollevata da commercianti e ristoratori che si trovano tra Via dei Redi, Via Madonna del Prato, Via di San Francesco e zone limitrofe. Qui il 3 dicembre e l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata, proprio durante l'ora di pranzo, ci sono stati ripetuti blackout. Abbiamo dovuto mandare via alcuni visitatori anche dalla Basilica di San Francesco a Fermachierici, anche lì è mancata la corrente. Dopo i blackout il gestore, in questo caso E-Distribuzione, è stato avvisato e la risposta è arrivata. In riferimento ai due disservizi, si legge informiamo di aver già individuato una soluzione provvisoria al problema con una modifica all'assetto della rete e di aver programmato un intervento per la sostituzione degli interruttori di cabina. In questo caso sarà dato avviso per l'interruzione temporanea del servizio. Il danneggiamento dell'interruttore, chiude la nota, potrebbe essere dovuto anche ad un eccesso di prelievi nell'aria. Insomma, un carico eccessivo, la cui causa ancora però non è chiara. Le nostre luminarie nella zona non ci sono, a Fermachierici. La soluzione, almeno provvisoria al problema, sembra abbia funzionato perché poi durante il weekend non ci sono stati blackout. Il problema è stato sicuramente preso in carico dal gestore, ma mi preme precisare che le luminarie di Arezzo, città del Natale, non possono essere state la causa.